Ritorno a Cassidy sul palcoscenico delle storie e allora ecco la recensione della serie originale da 18 numeri, uscita bene nel 2010, per capire se vale la pena recuperarla. Carissimi amanti dei fumetti, carissimi lettori, ben ritrovati a questa nuova videorecensione e allora, come detto, andiamo a recuperare questo Cassidy, questa serie di 18, risalente al periodo un po' tra la fine degli anni 2000 in cui appunto c'era un po' più questa moda esplorativa della Bonelli di proporre varie serie da 12, 14, 18 numeri e in questo caso appunto Cassidy. È particolare una serie di Pasquale Ruiu alla sceneggiatura che ha dato poi a diversi disegnatori l'occasione di cimentarsi su questa serie. Che serie è Cassidy? Cassidy è una serie che è ambientata sugli anni 70 appunto nella America in molte parti, cappelluta, zampa di elefante eccetera eccetera, ma nell'America degli Stati del Sud con insomma questo alternarsi tra redneck e comunque una comunità, un particolare approccio sociale rispetto un po' ai vari altri stati generali tipici con un immaginario un po' più tipico. Qui appunto anni 70 quindi criminalità perché appunto Cassidy è un eroe anti-eroe e come vedremo tramite la serie una delle parti più interessanti sarà proprio il cercare di capire, l'andare a fondo di come quello che ad oggi appare effettivamente come un anti-eroe, un criminale sotto certi aspetti seppur con un suo rigido diciamo codice d'onore in un certo senso possa essere giunto a comportarsi appunto da criminale, a diventare una sorta di anti-eroe quando al contrario, lo vedremo poi tramite dei flashback, nel suo passato era l'esatto contrario, quel suo passato che appunto si rifletterà ancora su questa personalità di un anti-eroe sì ma comunque con un suo codice d'onore, con un suo codice morale e appunto con dei valori sotto sotto, valori che vengono però come vedremo verranno estirpati dal malaffare, dall'ipocrisia in un momento particolarmente critico di quei tempi e come vedremo l'incipit tutto sommato di Cassidy non è diciamo estremamente originale però tutto sommato rimane intrigante, lascia tuttavia una sorta di traccia di sospetto che permarrà per l'intera saga perché continuerà a rifarsi a questo incipito durante tutta questa saga di 18 numeri questo Cassidy fino sostanzialmente al suo epilogo ma non sto a divagare oltre girando troppo attorno all'argomento andiamo nello specifico a vedere approfondire esattamente di che cosa tratta Cassidy e qual è a grandi linee la trama che porta avanti nel suo svolgimento. Il mondo di Cassidy è quello degli Stati Uniti del Sud negli anni 70 tra Texas e Nevada fino a Las Vegas. Un'epoca ed un luogo in cui se eri un professionista di furti e rapine potevi cavartela a lungo. Non c'erano smartphone e tracciamenti minuziosi come oggi. La serie però si apre con il nostro protagonista Raymond Cassidy che sta per morire in un mosco ai margini della strada deserta nel cuore della notte. Aveva progettato un colpo alla County Bank in Arizona ma è stato tradito dai suoi compagni che avevano pensato di fare a meno di lui nella spartizione del bottino. Sembra finita per Cassidy ma quando ormai dissanguato è allo stremo compare Bluesman, un vecchio musicista cieco che gli comunica una singolare profezia. A Cassidy verranno concessi altri 18 mesi per sistemare le cose. Si tratta forse di un'allucinazione, di deliri provocati da tutto quel sangue perso? Cassidy non ha risposte e si sveglierà a casa dell'amico e cognato Doc Weber che lo ricucisce. Dopodiché Cassidy scatena a testa bassa la caccia contro i suoi ex soci. Ma quel sistemare le cose continuerà a frullargli per la testa. Quali cose deve esattamente sistemare? Deve far giustizia contro i suoi soci traditori, certo, ma nel passato di Cassidy c'è molto di più. C'è una moglie da cui ha divorziato, una figlia a cui continua a telefonare di nascosto e che non ha accettato il nuovo patrigno e vorrebbe che suo padre tornasse a liberare lei e sua madre. Eppure Cassidy e sua moglie si amavano follemente e che cosa ha portato allora a questa separazione? Di mezzo c'è stata la tremenda guerra del Vietnam, numerosi fantasmi e loschi intrighi che hanno tramato alle spalle di Cassidy e che lo hanno portato, da uomo retto e integerrimo che era, a diventare un terribile criminale. Un criminale tuttavia dotato di un fortissimo codice d'onore. Per lui i civili non si toccano, non si spara quindi ai civili e non si rapiscono. E dal Vietnam, oltre a diverse cicatrici nel corpo e nell'animo, tornerà anche con due amici, Ace Gibson e Joan Cuervo, che lo affiancheranno nelle sue vicende criminali ed in questa sua nuova odissea di 18 mesi. Ecco quindi che di questa serie in particolare a tenerti soprattutto lì e a rendere in particolare avvincente e intrigante la figura stessa di Cassidy come personaggio è un po' il suo passato, il fatto che derivi da queste crudeli vicende che hanno fatto degenerare il rapporto tra lui e sua moglie durante appunto la guerra del Vietnam. C'è poi questo sentimento di vendetta che sappiamo in particolare mi intriga molto quando a spingere soprattutto certi atti efferati e soprattutto e volutamente la vendetta quando colpisce proprio un uomo nei suoi principali valori e quindi va alla carica. Sebbene in questo caso Cassidy persegue questa vendetta senza quella sete, quella veemenza, a parte il fatto di riuscire a essere molto freddo, ma questo è anche un pregio a volte di certi personaggi, riuscire a essere gelidi con certi atteggiamenti, è un pregio. Qui però a volte invece sembra che più che non essere gelido, Cassidy spesso si faccia quasi come distrarre. Se lui dovesse veramente perseguire un certo suo obiettivo, è vero che non lo sa del tutto, non è riuscito del tutto a metterlo fuoco all'inizio, però dovrebbe essere quello andare a testa bassa e invece diciamo ci arriverà però insomma divagando, divagando molto e questo sa un pochettino appena di tentativo di allungare un po' il brodo per far dipanare la storia entro questi ampi 18 albi. Interessante poi il fatto che almeno nelle varie diverse vicende Cassidy si faccia diversi nemici di alto livello dai boss mafiosi, politici influenti, gestori di importanti casinò di Las Vegas super iconi, insomma nemici di un alto livello da questo punto di vista. Più in generale mi vengo a dire che qui Ruiu mi ha saputo convincere soprattutto in questa parte di trama quella più legata all'azione, al raggiungere diciamo così gli obiettivi a breve e medio termine mediante i colpi di scena, mediante qualche fase particolarmente di trilling, qui sa essere molto convincente. Meno secondo me nel modo in cui ha inscenato la parte diciamo così soprannaturale da una parte che dovrebbe soprattutto dare qualche sfumatura che va a confuire nel drammatico, che dovrebbe sostanzialmente sorreggere il grosso di tutta l'intelaiatura della trama di 18 numeri. Quello si intravedeva che riusciva secondo me a sostenersi un po' meno, un po' appunto anche per via di questa appunto mancanza di coerenza fino in fondo nella gira, almeno da come la percepio io, di Cassidy. I suoi continui tormenti che però continuano a lasciare in sospeso senza andare mai al nocciolo della questione. Perché insomma ha una moglie qua, la figlia insieme alla moglie, messa un po' come sommesse, la sorella invece messa di là. È un classico eroe che poi alla fine non vuole soffermarsi da nessuna parte. Evidentemente, come vedremo, come vedrete eventualmente, il passato lo ha segnato pesantemente. Questo ci può stare, per carità. Per quanto riguarda le copertine di Alessandro Poli direi che sono discrete per quanto, secondo me, abbastanza didascaliche nella loro rappresentazione. Ai disegni è stato scelto un pool di autori che è riuscito comunque a rendere tutto l'ensemble abbastanza eterogeneo. Quindi sono stati abbastanza bravi in questo, appunto, di non dover dare la sensazione di disegni completamente diversi nello stile l'un dall'altro. Come estetica in particolare mi hanno convinto ad esempio la caratterizzazione dei volti di Elisabetta Barletta e le rappresentazioni generali di Gianluigi Gregorini e Maurizio Di Vincenzo. Nella media Furnò, Parmitano, Cavenago e Valdambrini mi hanno convinto meno invece gli albi di Borgioli e Siniscalchi. Questo giusto per darvi un'idea anche dei nomi coinvolti. Nel complesso vi consiglio questa serie di Cassidy non è una serie, a mio avviso, capolavoro. Non è una serie nemmeno brutta. Leggibile, scorre, scritta, disegnata discretamente. Dipende tutto quindi dalle aspettative. Se volete una serie tutto sommato discreta che tratta un po' degli anni settanta tra gli stati del sud e l'estremo occidente degli Stati Uniti e questi anni appunto tra muscle car con cui si fuggiva dalla pulizia con rapine in banca e per scoprire come mai appunto questo Cassidy da marito integerrimo, marito e soldato integerrimo è diventato questo delinquente che si è data appunto alle rapine può avere qualche aspetto interessante, approfondire questa storia. Poi comunque classiche serie da 18 numeri che si trovano anche relativamente facilmente a dei prezzi piuttosto accessibili complete su ebay e poi se non vi piacciono anche fatte dovrebbe rimanere anche abbastanza facile piazzarla rimettendoci sempre poco a livello di usato sempre su ebay. Quindi a voi capire se volete immergere in questo tipo di storia. Per quanto riguarda comunque visto il finale che c'è stato a questo punto sono curioso di capire come intenderà appunto riprendere dove aveva lasciato anche in base al finale con cui era andato a concludere la serie. Molto curioso quindi per vedere anche poi se magari questa serie suddivisa stavolta in piccoli tre numeri riuscirà a condensare un po' meglio il tutto e rendolo un po' più coeso anche nel comportamento stesso di Cassidy con quella piccola critica che ho fatto durante questa serie. Fatemi sapere ovviamente, sono curioso, se voi avete letto a suo tempo questa serie di 18 cosa ne pensate, se è tra le vostre preferite, le vostre invece che avete apprestato meno e noi per quanto ci riguarda prossime e future serie saremo sempre qui a recensirle. Iscrivetevi al canale se vi interessa in questo senso seguire e ci si vede al prossimo video. Ciao da Viper!